Sono un piccolo angolo di paradiso che solo recentemente ha cominciato ad avversi al turismo e che conserva la purezza dei suoi paesaggi in viglia rispetto delle tradizioni. Io vado che c'è un appuntamento. Cioè mancano tre settimane all'esame, mi pare che ne so meno dell'altra volta. Poi fammi sapere la data precisa, così io mi organizzo, ti accompagno. Sì, sì, ma se non puoi non c'è problema. No, mi fa piacere. E c'hai paura che mi cerca un altro passaggio? Eccoli. Che dici, io lo faccio un caffettino. Ammazzo. Franco, che ci fai qua? Oh, che ci fai qua? Come che ci faccio? Sono venuto a trovarti. E come mai sei fuori? E come mai? Mi hanno dato un permesso di un giorno, dalla mattina alla sera. Ma in realtà scadeva ieri sera. Ma si può fare questa cosa? Certo che non si può fare, questo coglione è evaso. Ma questo chi è? Non sono affari tuoi. Ah, lui sarebbe il tuo uomo. Sì. Infatti qua tu non ci puoi stare. Perché? Franco, tu qua non ci puoi stare, te ne devi andare. Le guardie passano tutti i giorni, a tutte le ore, possono pure entrare a controllare. Tranquilla, me ne vado. Torno in Francia. In Italia non c'è futuro. Comunque, non voglio disturbare. Il bagno? Qui davanti a te, come esci?